Il governo ha deciso di equiparare camper e rullotta stanziali in campeggia all'area aperta come se fossero degli edifici, per cui da domani dovranno dotarsi di permessi di costruire, di autorizzazioni paesaggistiche per poter mantenersi sul territorio. Questo è un grave colpo mortale a questo settore del turismo, a 2.600 campeggi, a un settore importante della nostra economia che fattura 3 miliardi all'anno e che impiega 45.000 addetti.